Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questa analisi del giorno dopo, piccola analisi, anzi forse più una domanda, non vedetela come una provocazione, guardatela proprio come una vera e propria domanda che vado a farvi, perché durante tutta la partita ho pensato a una cosa e quindi voglio cercare insieme a voi di ricostruire quello che è stato il primo tempo, il primo tempo. Non andiamo oltre, concentriamoci solo sul primo tempo. Di Udinese e Juventus 0-2. Perché io credo che sia stato un buon primo tempo per la Juve, credo che la Juve abbia fatto una buona partita, che abbia meritato il vantaggio, che abbia meritato la vittoria più nel primo tempo che nel secondo. Ma di questo poi possiamo parlare in un altro momento, ma che allo stesso tempo quello che abbiamo visto all'interno di quei 45 minuti sia stato non poco, però difficile da replicare. Che cosa intendo? È stata una partita 0-0 nel primo tempo? E voi direte no, assolutamente no, perché la Juventus è arrivata per ben due volte a infilare il pallone nella rete avversaria. E questa è la definizione più base, più banale, più scontata di un gol. Però ragioniamo un attimo su come sono arrivati i gol. All'interno di, comunque, non tantissime occasioni per la Juve, che in questo caso specifico sono nati anche da due rimpalli sui pali. Quindi molto particolare come situazione, perché la Juve va a prendere un doppio palo all'interno di tutti i due gol che segna a Udine. E poi, una volta al portiere e una volta a Savona, fanno il tocco definitivo e decisivo per il gol della Juventus. Il gol del 1-0 nasce sì da una Juve che va a distendersi dopo un recupero palla. Quindi un'azione di squadra, manovrata, un'azione in cui i giocatori partecipano insieme come organico. Ma nasce anche da una grandissima giocata di Turam. Io l'ho paragonata al Pogba Prime e Turam nel post partita dice che Pogba è il suo calciatore preferito, quindi è ancora tutto meraviglioso. Ovviamente Turam è cresciuto immaginandosi di poter fare una carriera anche solo lontanamente paragonabile a quella di Pogba. E gli auguriamo tutto il bene del mondo, anche se i giocatori sembrano molto molto distanti. Però Turam è molto giovane e avrà possibilità di crescita. Ma non è tanto il problema che Turam vada a fare una gran giocata che può non ricapitare durante i primi tempi. Quanto più che la Juventus è sembrata una squadra che poi nel secondo è andata ad accontentarsi di quei due gol di vantaggio. Dico è sembrato per un motivo, perché in realtà la lettura che vado a fare è di una gara che la Juventus ha voluto davvero gestire nei ritmi. Nel secondo tempo la Juventus non ha praticamente mai voluto strafare, non ha mai voluto fare qualcosa in più, non ha mai voluto fare una corsa in più, andare a scoprire il fianco per andare a chiudere la partita con il terzo gol. Qualcuno potrebbe dire, e beh che problema c'è, che male c'è, la Juventus già stava vincendo per due gol a zero. Infatti non è un problema, perché per quanto mi riguarda quello che deve fare la Juventus di Tiago Motta, quindi quella che stiamo osservando in questo momento nello specifico, è cercare di arrivare alla rete a maggior ragione quando sei già in vantaggio con una rete fitta di passaggi, un gran possesso palla che possa stanargli avversari e farli stancare. Quindi da questo punto di vista mi è sembrata una gara matura della Juventus, che a un certo punto ha detto, senti sai cosa facciamo? Non devo impazzire, io la partita la sto già vincendo, non ho necessità di andare sempre ai mille all'ora. Io credo che questo sia importantissimo per una squadra che deve fronteggiare così tante competizioni come la Juve quest'anno. Ragazzi siamo di fronte a una stagione in cui la Juventus andrà a fare il più grande numero di partite in assoluto. Di fronte anche a una rosa che ha avuto fin troppi problemi fisici in questo momento e che non ha mai fatto dormire sonni particolarmente tranquilli a noi tifosi, figuriamoci a Tiago Motta. Però credo anche che questa gara possa paragonarsi tanto a quelle che abbiamo visto nella primissima parte di stagione, dove la Juventus nel primo tempo non costruiva tantissimo e in questo caso a noi è andata bene perché siamo riusciti a sbloccarla e poi anche a raddoppiare, quindi chiudere la partita con un secondo gol. La paura è che questo non possa accadere sempre e che ci sia bisogno di qualcosa in più da parte della Juventus non solo nella volontà di andare in campo nel secondo tempo ma anche proprio nei ritmi che può mettere in gioco nel primo. Ripeto, secondo me la Juventus poi i ritmi li ha sgonfiati volutamente nel secondo tempo anche pensando a quella che sarà la partita di Champions League e questa cosa secondo me è stata anche spiegata e confermata la Tiago Motta ai microfoni del post partita da Zon perché ha detto questa è stata una vittoria di squadra, se non è stata una vittoria di squadra questa io non ho idea di quale possa essere letteralmente una vittoria di squadra, al 100% una vittoria di squadra, concordo alla grande con l'analisi del mister ed è stata una partita interpretata nel modo migliore. Io credo che l'atteggiamento della Juve sia stato ottimo anche perché la Juve è entrata in campo già nel primo tempo bella convinta cosa che non vediamo spesso in questa stagione, la prima stagione di Tiago Motta all'eventus abbiamo visto spesso volentieri una Juve che poi nel secondo tempo deve fare qualcosa in più perché nel primo sembra quasi che Tiago Motta sbagli a leggere la partita e che invece sia poi molto bravo con una modifica nel secondo a mettere in scacco gli avversari anche questo fa parte del calcio, la lettura della partita per un allenatore moderno deve essere veramente basilare deve essere la chiave per una carriera di successo Tiago Motta aggiunge che nel primo tempo l'Udinese lasciava molto la costruzione della Juventus ed è per questo che secondo me Tiago Motta vede questa partita come una gara interpretata molto bene nel modo migliore dalla sua squadra quindi con una fase di palleggio importante poi dice nel secondo tempo quando noi siamo 2-0 una squadra come l'Udinese è normale che venga fuori ed è quello che vi dicevo prima per forza, per forza di cose l'Udinese che sta perdendo la partita per 2 gol a 0 non può fare altro che aumentare lei i giri del motore è lei che deve recuperare non è la Juventus la Juventus deve far sudare l'Udinese perché il pallone non sude quindi mantenendo il possesso della palla Tiago Motta però dice una cosa importante non guarda tanto la gestione del pallone ne fa quanto più una lettura prettamente difensiva e cioè ci siamo ricompattati ci siamo difesi bene e abbiamo contraattaccato attenzione una non esclude quell'altra cioè non è che se la Juventus si ricompatta difende bene e contraattacca allora il pallone non lo va a gestire non lo va a utilizzare però credo proprio che questa sia stata una volontà di Tiago Motta e vi dico che se davvero dovesse essere confermata questa lettura di una Juve che nel primo tempo prova a dare tutto prova a portarsi a casa la partita nel primo tempo così poi ha la facoltà di abbassare i ritmi e lo fa volutamente sapendo che gli altri vengono fuori e preoccupandosi soltanto di ricompattarsi di difendersi di ripartire di mantenere il possesso della palla e questo ragazzi sarebbe un passaggio di crescita importante per la Juventus perché tante volte una cosa che mi fa veramente ridere da leggere è la seguente Tiago Motta deve capire che non è più al Bologna è alla Juventus cosa deve capire Tiago Motta? lo sa benissimo Tiago Motta che è alla Juventus e che non è più al Bologna e tante volte questa affermazione è condita dal non si vede ancora la mano di Tiago Motta allora mi domando ma questa che cos'è? una Juventus che attualmente in Serie A anzi prima di questa partita con l'Udinese era una squadra che aveva il 91% di precisione nei passaggi ed era prima in Serie A di fronte all'Inter cioè noi tante volte ci mettiamo qui e ci diciamo centrocampo dell'Inter cavolo che roba altro che il nostro e poi facciare l'elenco dei giocatori la Juventus con Cobbeners e senza Cobbeners è una squadra diversa abbiamo visto la qualità che mette Cobbeners anche se fisicamente non è a posto pure il 91% di possesso palla non lo fai per caso di qualità dei passaggi in tutta la stagione aggiungo che Udinese-Juve è stata una partita dove a fine primo tempo la Juventus aveva ancora il 91% di precisione dei passaggi e quindi confermava prettamente la sua media poi non ho guardato al termine della partita ma poco cambia perché l'idea è che la Juve abbia veramente un'impronta già di Tiago Motta ben definita e quando gli allenatori arrivano anche a trasmettere alla squadra il modo di gestire le partite diventa un passo in avanti molto importante qui però entra in gioco un problema un po' più grande e cioè che la Juventus in questo momento non è abituata a entrare in quella fase in cui può amministrare e gestire la partita non le viene spesso anche perché ultimamente tra Stoccarda Inter e Parma siamo andati sempre sotto noi siamo stati in vantaggio soltanto qualche minuto con l'Inter però all'interno è una partita che è troppo folle per descrivere per vivisezionare e per pensare anche di poter gestire a San Siro contro l'Inter questa Inter con una Juventus in emergenza sarebbe stato fin troppo folle con il Parma non siamo andati sopra con lo Stoccarda hai subito il gioco quindi non hai mai avuto il possesso del pallone quindi mi viene in mente soltanto una partita prima di questo Udinese Juventus 0-2 in cui la Juventus ha potuto provare a gestire la gara senza riuscirci e sto parlando di Juventus Cagliari 1-1 entro un po' più nella discussione io non credo che sia una coincidenza che la Juventus da Juventus Cagliari 1-1 a Udinese Juventus 0-2 non si è mai riuscita a gestire il pallone in maniera ottimale perché con l'Alazio fai una partita in superiorità numerica che vai a vincere soltanto agli ultimi minuti con un autogol dell'Alazio ma non sei per tanti minuti in vantaggio tanto da poterti permettere di gestire la partita con lo Stoccarda con l'Inter col Parma questa roba non è mai accaduta e allora arriviamo oggi e allora vi domando e concentratevi bene perché questo video nasce da questa volontà qui mettere in evidenza una cosa che cos'è cambiato in queste quattro partite dopo Juve Cagliari e in quella di oggi per quattro partite intendo Lazio Stoccarda Inter e Parma con Maners la risposta è con Maners con Maners che esce per infortunio a fine primo tempo di Juventus Cagliari dove la Juventus è avanti dove la Juventus ha fatto un gran primo tempo senza riuscire a chiuderla e dove proprio in quella partita alla fine non avendola chiusa va a subire un gol il primo gol della stagione in Serie A molto pesante perché fa volare via due punti in tutte le altre gare abbiamo visto una Juventus che ha sofferto difensivamente e qui secondo me entra in gioco la presenza di Danilo ma è stata molto meno sicura di sé dal punto di vista del palleggio tant'è che abbiamo visto delle partite in cui la Juventus è andata a subire il gioco dei avversari e allora il riassunto massimo è il seguente che forse è un po' troppo banale ed è un riassunto veramente che si allontana da quella che dovrebbe essere un'analisi di alto livello però abbiamo un campione abbastanza ampio di partite secondo me che ci fa confermare questa cosa e voi direte hai scoperto l'acqua calda sì può essere però volevo discuterne insieme e dirle ad alta voce queste cose difensivamente c'è una Juventus con Danilo e una senza Danilo dal punto di vista del dominio del dominio del pallone c'è una Juventus con Cobbeners e senza Cobbeners Tiago Motta ha detto una cosa importante anzi in realtà ne ha dette due con Cobbeners protagonista la prima è che lui e Ildiz in quella posizione vicino a Vlaovic possano dare fastidio ai giocatori che vanno a marcare Vlaovic e io da mesi insisto sul fatto che alla fine la Juventus dovrà arrivare con Ildiz e Cobbeners alle spalle di Vlaovic e con due sterni larghi anche nel video pre-partita vi avevo proposto questa soluzione dicendo spero veramente che Ildiz e Cambiaso vengano utilizzati in questa maniera perché siccome quella è la direzione migliore in assoluto per la Juventus ma su Cobbeners ha detto una cosa io avevo in mente di toglierlo pensavo di toglierlo ma è un giocatore così importante che alla fine ci ho rinunciato avevo bisogno di lui in campo era difficile da togliere da sostituire perché io ho letto tante persone che non hanno compreso l'importanza della prestazione di Cobbeners perché arrivano a dire gol e assist ancora non sta facendo anzi guarda che gol che ha sbagliato alla fine è un gol clamoroso quello mangiato da Cobbeners è un gol assurdo maggior ragione per uno con la sua tecnica di tiro con la sua importanza balistica l'abbiamo visto in questi anni a Bergamo ma quanto fa girare la squadra Cobbeners cioè vi ho preso in considerazione tutte le partite senza Cobbeners e tutte le partite con Cobbeners e vi ho fatto vedere che la Juventus riesce a entrare in momenti della partita come vado in vantaggio confermo il risultato vado a gestirla e senza Cobbeners fa fatica oggi la Juventus è Cobbeners dipendente non c'è un altro modo di dirlo e vi dico questo perché ero convinto che la Juventus fosse Bremer dipendente e credo che di non essere troppo lontano da questa definizione ma Gatti e Calulu come difensori centrali così come Cambiaso Savone Cabala a rotazione quando hanno avuto la possibilità di giocare hanno assorbito l'importanza di Bremer e sono riusciti a offrire prestazioni di livello chi più chi meno chi in maniera più continua chi in maniera più discontinua ma senza far rimpiangere particolarmente Bremer l'assenza di Bremer l'abbiamo notata quando è entrato invece Danilo al suo posto l'assenza di Cobbeners secondo me in questo mese l'abbiamo sentita tutti troppo tutti troppo perché è stata un'assenza impattante ed è difficile che un giocatore possa andare a fare il Cobbeners perché nella Rosa di Juve non c'è nessun giocatore con quelle caratteristiche nessuno anche Hildiz che potrebbe giocare in quel ruolo non ha quelle caratteristiche sono due concetti differenti quindi Cobbeners credo che oggi sia il giocatore più importante per la Juventus in generale perché è quel giocatore che riesce a darti quella qualità nel palleggio in più che gli altri difficilmente riescono a darti proprio perché questa Juve è basata interamente sulla qualità sul possesso palla sul riuscire a dominare il gioco andando ad avere più la palla rispetto agli avversari è il cambio di ritmo il metronomo se vogliamo così definirlo è uno solo è olandese alla numero 8 e si chiama Teun fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti ciao ragazzi Grazie a tutti